Il discorso di addio del profeta. 632 d.C. La missione di Mohammed si era completata e la sua vita era vicina alla fine. Nell'anno 632 d.C., eseguì il pellegrinaggio facendo il suo ultimo sermone a più di centomila persone. Ricordò gli elementi basilari dell'Islam, il credo nell'unicità di Dio, la dignità della vita, il benessere e la proprietà. L'uguaglianza tra tutte le razze, il ruolo della giustizia, i diritti e i doveri delle donne, lo sfruttamento e il monopolio, le moralità e i diritti dei non-musulmani.